Mi sento talmente sicuro che ho portato qui a bordo anche i miei figli. Tutte le operazioni, sia dall'imbarco che a bordo, che durante le cene, gli spettacoli, sono tutte organizzate molto bene. Le misure sono stringenti ma non sono fastidiose. Sono state tali da evitare qualsiasi contatto con altre persone di tipo ravvicinato. Ritengo che le possibilità di contagio siano state zero. Non siamo veterani, è la prima nostra esperienza sulla nave, siamo parecchio divertiti. La trovo più sicura di un'altra qualsiasi vacanza, secondo me. Divertimento, relax, tutto ciò che uno si aspetta dalla crociera è stato rispettato in pieno.